Noi ci siamo prefissati di mappare le strutture che erano presenti sui territori di città metropolitana e contemporaneamente vedere quanti fossero gli homeless che queste strutture avevano in carico. Noi abbiamo rilevato circa 550 presenze di homeless attualmente in carico a servizi sociali pubblici e strutture di terzo settore in rete con il pubblico e non in rete con il pubblico. E questo è molto importante perché abbiamo visto che quasi il 60%, il 57,7% delle strutture nei territori al di fuori di città di Torino non sono in rete con i servizi sociali territoriali. Questo pone effettivamente delle riflessioni rispetto alla governance, rispetto a un ente che possa facilitare il mettersi in rete. La metodologia che è stata usata in qualche modo distingue fra senza tetto, senza casa, cioè una variegatura piuttosto complessa di condizioni di homelessness. Sì, nella letteratura sono presenti varie definizioni di homeless, questo pone dei problemi sia di rilevazione sia nell'incrocio dei dati. Noi ci siamo rifatti alla classificazione ethos, che è quella che non si concentra esclusivamente sull'aspetto della perdita del dominio fisico dell'abitazione, ma si concentra anche su tutti i risvolti che questo comporta, sia il risvolto sociale ma anche il risvolto legale. Partendo l'abitazione spesso io perdo sia la mia rete che tutta una serie di servizi che mi rendono un cittadino che può accedere ai servizi. Abbiamo scelto di scegliere la classificazione ethos perché questa è quella che oltre ad essere oggi maggiormente riconosciuta in letteratura e anche quella che è stata adottata nel 2013 dalla Commissione Europea.